Intervistiamo l'artista multimediale internazionale Pasqualino Conti. Ciao. Oggi cosa ci prepara il signor artista? Oggi farò un'opera che comprende, che rivisita il novecento, novecento internazionale. Gli ingredienti sono Picasso, Mondrian e Van Gogh. Scusate che ho sbagliato l'ama. Alla prossima. Aggiungo l'ingrediente. Aggiungo l'ingrediente. Aggiungo l'ingrediente. Aggiungo l'ingrediente. E c'è, c'è. L'opera c'è. Eccola qua. Eccola. Questa. Questa va incorniciata e va esposta. Grazie. Grazie. L'arte frullata. L'arte frullata. Grazie.